Ciao, un forte bacione a tutta la fascia di ascolto dell'agenda natalizia della vostra Deborina, sto dietro alle quinte della taverna 69, a Giafa, la seconda tombola di oggi, siamo stati all'impero, a pranzo, la popolazione è gente esagerata, l'Igla, l'Igla, come si dice? L'Igla, e ora siamo alla taverna 69, non c'è nessun burdello e chi non è qui, perché la tombola di Deborina Posso mettere i numeri, perché sennò si perdono, questo è qui, questo è il numero di card 255 Comunque, sono troppo contento che mi avete seguito in questi giorni, abbiamo fatto tantissime tombolate due o tre giorni, a facciare la tombola, a facciare la tombola, e quindi stasera facciamo lo spettacolo della tombolata perché, proprio, che l'ha fatto quando l'ha tombolata, non c'è nessun burdello che ha un buon affan Ma per l'ha tombolata di Deborina è una sola, diciamo, e c'è, non può essere Qua un gesto, come si dice, come si vuole accattare, in questo, diciamo, un mercato, e poi c'è du brad Allora, lì, Deborina è brad, magari costa un pochettino, e vabbè, costa un pochettino, ma Deborina E quindi sono troppo contento di canterò anche la mia canzoncina Non capisco perché quanti continuano chi la straburtamente a chiamarmi coratella Oh, 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 bella E niente, poi, bule veri Ciao Ciao